La Palestretta è francese adesso dal 1947 dopo la seconda guerra mondiale perché hanno ridefinito un po' i confini dopo la seconda guerra e finita loro anche se diciamo che appartiene più a noi perché è anche più accessibile a noi diciamo come valle. Qui c'è un famoso valico alpino che è quello del Colle della Scala che veniva utilizzato fin dal Medioevo per passare in Francia perché dal Moncinesio chiedevano dei soldi quindi da qua passavano più facilmente e quindi noi stiamo andando in territorio francese a tutti gli effetti ma italiano nel cuore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.